Un uomo si era appartato con la propria macchina insieme a un'amica. Ad un certo punto, mentre erano dentro la macchina, che stavano facendo l'amore, c'erano i finestrini tutti appannati, ad un certo punto si sente bussare al finestrino. Allora l'uomo abbassa leggermente il finestrino e vede un carabinieri. Il carabinieri gli fa, ehi lei, che cosa sta facendo? Allora l'uomo risponde, ma io mi sono appartato per fare l'amore. Ma lo sa che è una cosa che non si può fare? C'è una multa di 200 euro. Addirittura 200 euro. Allora la ragazza risponde, ma 200 euro mi sembrano un po' troppi. Allora risponde il carabinieri, ah siete in due? Allora sono 400 euro. Allora risponde il carabinieri. Allora risponde il carabinieri.